I pod in Kubernetes. Ciao, io sono Michele e in questo video andiamo a conoscere e vedere come si usano i pod. Comprendere bene i pod è di fondamentale importanza perché sono l'unità base su cui si andranno ad eseguire tutti i nostri container, i workload, le applicazioni all'interno di un cluster. Quindi conoscermi i fondamenti è importante per cominciare a usare con consapevolezza le risorse di un cluster. L'architettura di Kubernetes prevede tanti componenti come ho spiegato nel mio video introduttivo che ti invito ad andare a vedere se non hai ancora visto. Oggi parliamo dei pod che sono lo strumento di base, sono l'unità più piccola che possiamo rilasciare all'interno di un cluster Kubernetes quando parliamo di risorse di computing, quindi quando dobbiamo eseguire qualcosa, abbiamo bisogno di CPU, RAM, disco, rete e così via, si parla di pod. Allora andiamo a prendere dalla documentazione ufficiale questa immagine e vediamo cosa abbiamo qui. Abbiamo nell'esagono, ci rappresenta un nodo al cui interno vengono mandati in esecuzione dei pod. I pod sono una bolla, sono una culla per i nostri container, siamo una culla, un supporto vitale che mettono a disposizione, quindi creano un ambiente per i container che ci girano all'interno mettendo a disposizione quelle che sono le risorse tipiche, quindi mettono a disposizione rete, quindi un indirizzo IP e delle porte, mettono a disposizione l'accesso allo storage, quindi con tutte le opzioni nel caso volumi, config map e così via, e inoltre abbiamo a disposizione ovviamente CPU e abbiamo a disposizione della memoria o ovviamente RAM. Quindi il pod ha la funzione di creare questo ambiente, questo supporto vitale per il container. Sì perché è importante avere chiaro il concetto che quando parliamo di workload, quindi di risorse, di computing, noi non maneggiamo mai i container, no container, nel senso che non li maneggiamo mai direttamente. In Kubernetes non si fa il deployment di un container, ma si fa deployment e si manda in esecuzione, per così dire, si mandano in esecuzione i pod, i quali pod al loro interno possono contenere uno o più container. Quindi pod, ambiente, supporto vitale per i container che ci girano al suo interno. Molto spesso il rapporto pod-container diciamo è uno a uno, quindi significa che dentro un pod vive un container solo, però ci sono tante applicazioni pratiche in cui all'interno di un pod possiamo fare girare n container. Si può parlare per esempio di un sidecar, di un container sidecar che fa funzioni accessorie rispetto al container principale che svolge, quello che deve svolgere, il workload applicativo. Si può parlare di init container che sono dei container effimeri che servono per magari inizializzare l'ambiente e poi devono semplicemente terminare, quindi nel pod ci sono più di un container all'inizio e poi ne rimarrà uno solo e così via. Quindi generalmente si ha che un pod contiene un container, ma possono esserci applicazioni e casi dove un pod ha tanti container al suo interno. All'interno di un pod quindi possiamo vedere che qui per esempio ci sono due container, qui ancora due, condividono lo stesso indirizzo IP, quindi bisogna poi eventualmente fare delle considerazioni sulle porte nel caso ci dovesse essere della comunicazione con un dive verso un container specifico. Eventualmente possono condividere dello storage dove magari un container fa delle operazioni di scrittura, deposita dei dati, magari dei log e abbiamo un altro container che li prende, li legge e li spara su un sistema di log centralizzato. E così via. Gli scenari possono essere e tanti, però comunque per dire che all'interno di un pod possono girare più container che condividono le risorse. Ma bando alle ciance andiamo a vedere da riga di comando che come possiamo fare partire un pod, come gli possiamo dichiarare eccetera. Allora il comando più semplice per mandare in esecuzione un pod, che ripeto di solito non si maneggiano i container, in Kubernetes non si maneggiano i container, ma si maneggiano i pod. Poi vedremo che è anche raro avere a che fare con i pod direttamente, si preferisce utilizzare oggetti diversi come i deployment che permettono di governare insieme di pod, ma intanto vediamo cosa si può fare. Allora lanciamo un kubectl run nginx-pod image uguale nginx restart never. Qui stiamo mandando in esecuzione un pod il cui nome è, gli diamo il nome nginx-pod, gli diamo in esecuzione l'immagine ufficiale di nginx e gli diamo la policy di restart never. Quindi nel caso il container all'interno del pod dovesse morire non parte alcun meccanismo automatico di restart. Quindi facciamolo partire, ci viene detto pod nginx-pod created, e da questo punto se faccio kubectl get pods, ho il mio pod nginx che va, posso fare anche kubectl get po allo stesso modo, è un alias e posso vedere esattamente la stessa cosa. A questo punto, come posso, posso anche poter entrare nel pod, vedere effettivamente che ci posso interagire. facendo kubectl exec, quindi voglio eseguire che cosa in modalità diciamo interattiva all'interno del pod che si chiama nginx-pod, il comando bin bash, quindi vado ad aprire la bash dentro il pod. A questo punto qui posso fare tutti i comandi che voglio all'interno del pod, ci sono proprio dentro, sto navigando il suo file system e così via. Quindi ci posso, a questo punto esco e abbiamo completato il giro turistico del pod. Un'altra cosa che posso fare è kubectl describe pod e gli do il volume, il nome nginx-pod e qui vado a ottenere tutte le informazioni di un describe. In particolar modo è utile, ma anche per scopi diagnostici, magari se il pod non parte o ci sono dei problemi, la sezione degli events perché mi aiuta a capire nel corso del tempo che cosa è successo. Ho l'evento più lontano da sopra, quindi ho scheduled, quindi vuol dire che lo scheduler di Kubernetes ha preso in carico l'esecuzione di questo pod e ha trovato un posto, un nodo dove far girare il pod, ha scaricato l'immagine nginx, ha fatto il pooling e poi ha fatto pooled, ci ha messo sostanzialmente un secondo, molto probabilmente ce l'avevo in cache, ha creato il container all'interno del pod e ora della fine quel container è stato avviato dentro il pod. A questo punto kubectl delete pod e gli do nginx-pod, questo il pod scompare e quindi se faccio get po sparisce e mi rimane, vabbè, solo questo di traffic che è tutto un altro discorso che avevo già in esecuzione prima. Sempre per prendere confidenza con i pod, un altro esempio che posso fare è quello di simulare un pod, un container che all'interno del pod scrive dei log, lo faccio facendo kubectl run, lo chiamo loggerpod, gli do l'image, lo faccio partire da busybox che è un'immagine che contiene un po' di strumentini utili tipici del mondo unix-linux, gli do sempre restart while and ever, eseguo che cosa dopo i due trattini, qua gli do l'istruzione di eseguire bin, gli do uno script shell, così e gli dico while true, qui è già tutto scritto nella cronologia, ma lo scriviamo di nuovo, così lo commentiamo, scrivo while true, quindi ciclo infinito, faccio undo echo log periodico, vado a scrivere un log da qualche parte, dove lo scrivo, effettivamente nell'eco lo scrivo nello standard output, faccio uno slip di 5 secondi e done, quindi ora della fine stiamo creando un pod che all'interno esegue un container partendo dall'immagine busybox, che ha un ciclo infinito e ogni 5 secondi scrive log periodico, a questo punto questo log parte, per scopi diagnostici e per vedere cosa sta succedendo in un pod, leggerne il suo log, posso fare kubectl logs, e lo chiamo logger-pod, appunto il nome del pod stesso, gli do meno f che si sta per il follow, e quindi adesso qui, quelle sono scritte di log fatte, mentre io chiacchieravo, e adesso vediamo in tempo reale la scrittura del log, bene, vado a distruggere, kubectl, kubectl delete pod logger pod, ecco che il pod viene distrutto, e liberiamo spazio nel nostro cluster, è davvero raro maneggiare direttamente i pod come accennavo prima, soprattutto magari, possono essere utilizzati così per scopi didattici e di apprendimento, questi comandi imperativi di kubectl, dove andiamo direttamente a specificare quello che vogliamo, un approccio leggermente più comune, è quello di utilizzare dei file YAML, quindi dei cosiddetti manifest, dove andiamo in modalità dichiarativa, a dire al cluster Kubernetes quello che vogliamo, lo stato che vogliamo raggiungere, lo descriviamo con un file YAML, e poi tutte le varie parti dell'architettura di Kubernetes si muoveranno per raggiungere, affinché il cluster raggiunga quello stato, quindi noi adesso andremo a vedere come descrivere in un YAML, in un file YAML, il pod che vogliamo creare, per esempio come abbiamo fatto poco fa, e andare ad eseguirlo con il comando, andare ad applicarlo con il comando kubectl apply. Un trucchetto che posso fare è quello di andare a prendere il comando, per esempio che ho fatto prima, di run nginx pod, e vado ad arricchirlo con cosa? Meno meno dry run, lo prendo dalla storia, meno meno dry run client, quindi non andiamo, il dry run non esegue veramente il comando, ma ne fa una simulazione, ci fa vedere che cosa succederebbe se mandassimo effettivamente in esecuzione quel comando, la simulazione qui viene fatta al lato client, quindi da kubectl, kubectl non viene fatta chiedendolo al cluster stesso, questo può essere utile, perché non interagiamo col cluster, perché il file YAML che viene in output è più leggero, abbiamo meno informazioni, dobbiamo fare meno lavoro di pulizia, tra poco lo vediamo, e facciamo meno o, lo vediamo a capo, sposto questo così diventa più leggibile, meno o YAML, quindi vogliamo l'output in formato YAML, potremmo dire JSON o altri formati, ma preferiamo lo YAML perché umanamente è più user-friendly, è più leggibile, e lo scriviamo in un file di testo che chiamiamo podnginx.yml, mando in esecuzione, quindi faccio code e apro il file, vediamo che cosa compare. quello che mi trovo davanti è un file YAML che in modalità dichiarativa mi va a descrivere il mio pod, quindi questo file sta descrivendo, vediamo nella riga 2 il kind, mi sta descrivendo un oggetto di tipo pod, nel metadata abbiamo delle informazioni aggiuntive, il timestamp lo posso pulire, non mi interessa, abbiamo delle label che sono fondamentali, molto importanti nel sistema di Kubernetes, per descrivere gli oggetti, per recuperarli con i query, con i selector, le query sui selector, utilissimi per i deployment, per i service e così via, sono fondamentali, andiamo a dare un nome al pod, si chiama nginx.pod, poi questa è proposta dal dry run, in questo momento ci sta bene, non vogliamo fare ragionamenti particolari sulle label, all'interno di questo pod vediamo che le specifiche, abbiamo containers, quindi plurali, perché in un pod ci possono stare più container, andiamo a creare il primo pod, parte da image a nginx, gli diamo un nome nginx.pod, o meglio potremmo anche chiamarlo nginx.container, mi sembra più corretto, dns.policy.cluster.first la possiamo togliere, in questo momento non ci serve, l'aerestart.policy che abbiamo visto prima, e lo status in questo momento non ci interessa, perché arriva dal dry run, salviamo, qui vediamo uno squiggle del plugin di Visual Studio per Kubernetes, che ci dice che questo pod non ha, o meglio per questo container, non sono specificati i limiti, per quanto riguarda CPU e memoria, quindi una best practice all'interno di, quando andiamo a definire i container di un pod, è sempre aiutare lo scheduler del cluster, e dire guarda che questo container, quindi poi per somma tutti i container, questo pod, ha bisogno di un minimo, ti richiedo un minimo di RAM, o di CPU, ma non farlo andare massimo, oltre questa soglia di CPU, o questa soglia di RAM. Per semplicità, in questo momento lo lasciamo così com'è, il file comunque funziona, andiamo a fare un kubectl apply-f pod nginx yaml, abbiamo il pod che viene creato, possiamo beccare il describe di prima, e abbiamo effettivamente che il container parte, e tutto quanto, posso fare anche un get po, un get pods, e vediamo che è in esecuzione e così via. Per cancellare questo pod, potrei di nuovo fare un delete sul suo, chiamandolo per nome, oppure posso fare un kubectl, kubectl delete-f, e vado sul nome del file, che è pod nginx, a questo punto viene cancellato tutto quello che è stato creato, tramite l'apply di prima, per andare a leggere il contenuto del file. Giusto per controprova, appunto il mio get pods, non trova più il container nginx pod, e abbiamo pulito l'ambiente, abbiamo chiuso il ciclo. Dicevamo quindi che una best practice, è quella di specificare le ressources richieste dal container. Ok, questo perché dà un indizio, aiuta lo scheduler del cluster, a capire dove meglio allocare il pod che stiamo descrivendo. Qui vediamo GitHub Copilot, che mi ha già fatto per esempio una proposta, io la accetto, mi va bene, vediamo per esempio che qui abbiamo una richiesta di memoria di CPU di 64 MB di RAM e 250 mcpu. Questa è un'unità di misura che è del cluster Kubernetes, 250 in Kubernetes si definisce una CPU come un core, e la può essere descritta con il numero intero una CPU, oppure posso scrivere una CPU, oppure se voglio andare nel dettaglio, potrei anche dire un core e mezzo scrivendo 1,5, ma è più comodo e evita errori con i punti e con le virgole digitare, usare le mille CPU, quindi per esempio posso scrivere 1500 m, sto indicando un core e mezzo, in questo caso quindi sto indicando un quarto di core di un nodo, quindi questo workload, questo container, non andrà, va a richiedere al cluster Kubernetes un quarto di core, e il limite invece è 500, quindi non gli verrà data più di mezzo core durante la sua esecuzione. Lo stesso ragionamento lo facciamo per la memoria, quindi stiamo andando a chiedere 64 MB di memoria per partire, ma il container viene limitato a 128. cosa succede? Per la CPU niente, quindi gli viene nel senso che gli viene data questa CPU, possono esserci delle variazioni o degli istanti in cui l'effettivo consumo di CPU va a superare il mezzo core, ma poi rientrerà rapidamente, perché è difficile controllare in maniera estremamente precisa quanta CPU si consuma, mentre per la memoria cosa succede? Se, per esempio, il container dovesse andare a istanziare più di 128 MB di RAM, viene ucciso da Kublet, che è quella parte di Kubernetes che monitora un pochino l'andamento dei pod. Con la memoria si scatena l'istinto molto severo di Kubernetes, dove appena le cose vanno fuori controllo, lui termina. Ok, quindi nel caso di questo container utilizzasse più di 128 MB di RAM, verrebbe riavviato, distrutto il pod e riavviato. Le considerazioni su limit e request sono importanti appunto perché danno al cluster l'idea di come si dovrebbe comportare il container, quindi il pod, quindi a sua volta il pod, e ci aiuta a mantenerlo sotto controllo, come abbiamo visto per esempio nel caso di problemi di allocazione di memoria. Bene, per quanto riguarda i pod all'interno di un cluster Kubernetes, per oggi ci fermiamo qui. Se da questo video hai imparato qualcosa, oppure ti è piaciuto, mi raccomando, metti mi piace, iscriviti al canale per rimanere aggiornato sulle prossime uscite. Ciao! Ciao!